Nooo, guarda il figata, madonna il cron d'angolo, finalmente, finalmente il 10-18. Ragazzi, cioè, finalmente riesco ad avere la fotocamera qua davanti a me, non dover utilizzare le varie app per vedere le inquadrature, monitor esterni, eccetera. Finalmente è arrivato, grazie Sony che mi ha svecchiato almeno di 10 anni. Oggi video molto interessante perché è uscita la developer preview, eccola qua. Android 11 su Google Pixel 2, Pixel 3, 3a, Pixel 4, ovviamente anche le serie, XL l'ho installata all'interno del mio Pixel 3a e qua abbiamo anche un Pixel 4 XL, così andiamo a vedere le varie differenze. Oggi doveva essere un giorno importantissimo per questo canale YouTube con un'altra anteprima nazionale, ma ragazzi il pacco DHL con al suo interno lo Xiaomi Mi 10 è tornato in Cina, non me l'hanno fatto passare. E quindi ragazzi sostenetemi con un bel like perché io ci ho provato veramente in tutti i modi per portarvi questa anteprima, ma per il momento siamo fermi in stand-by. Adesso sto veramente trondi su di HL, cazzo, perché deve arrivare questa bella anteprima su questo canale YouTube. Era da tanto tempo che avevo nella scatola questo Google Pixel 3a e devo dirvi la verità, beh, dopo tante prove di smartphone abbastanza grandi, ritornare su questa forma compatta è veramente, veramente, un po' come sospirare, ecco diciamo così. Vi faccio vedere subito una delle primissime novità arrivate su questa nuova versione. Vi ricordo ovviamente che è una developer preview, quindi non la installate, se il Google Pixel è il vostro smartphone principale, perché ci potrebbero essere veramente molti, molti bug. Allora, vedete qui ho un messaggio del mitico Danilo che saluto, un nostro fan sempre presente nei gruppi Telegram, è un messaggio ricevuto su Telegram appunto. Se vado a schiacciare sull'iconcina del messaggio, come potete vedere, oltre a disattivare la notifica, a posticipare la notifica stessa e aggiungere a preferiti, adesso mostra sotto forma di fumetto. Avete presente le bolle di Facebook Messenger? Ecco che vengono riproposte in questa nuova developer preview. Adesso non schiaccio, se no il numero di Danilo verrebbe in sovraimpressione e tutte le donne di questo canale YouTube chiamerebbero Danilo per uscire a cena con lui e quindi è meglio non farlo perché altrimenti sono troppe per Danilo. Comunque questa è una delle primissime novità in casa Android 11. Ci sono alcune novità sotto al cofano che riguarda i moduli 5G, ovviamente non è il caso di Google Pixel 3a e in particolar modo una cosa molto interessante è secondo me l'adattamento di tutte le varie applicazioni del sistema operativo ai nuovi smartphone come ad esempio il Galaxy Z Flip oppure il Motorola Razer oppure, non lo so, l'adattare il tutto ai formati 21 noni come per esempio Sony Xperia 1. Entrando nel menu delle impostazioni vi faccio vedere un'altra novità integrata in questa prima developer preview. Se entriamo infatti nel menu display potete vedere che possiamo andare anche qua ad abilitare o meno il tema scuro ma come si poteva già fare all'interno del mio Pixel 4 XL però vedete adesso possiamo andare a pianificare il nostro tema scuro quindi andarlo ad abilitare a una determinata ora oppure tenerlo disattivato. Vedete le traduzioni in questo caso non sono perfette ecco perché vi dicevo attenzione se questo è il vostro smartphone primario. Nelle impostazioni informazioni sullo smartphone eccolo qua versione di Android vedete Android R come viene chiamata in questa release software con le patch di sicurezza del 5 maggio 2020 quindi le ultime disponibili per quanto riguarda i Google Pixel. Altra novità di questa developer preview se andiamo a tirar giù la nostra tendina delle notifiche nei vari toggle rapidi vedete adesso ho abilitato la funzione registrazione schermo quindi di default senza andare a installare un'applicazione esterna possiamo tranquillamente andare a registrare una porzione di schermo quindi utile già integrata nel sistema operativo non c'è da installare nessuna app di terze parti questo è molto molto comodo se volete condividere con i vostri amici un qualcosa che passa sul vostro display come ad esempio integrata anche in iOS quindi secondo me ottima questa nuova implementazione. Altra novità molto importante per quanto riguarda la sicurezza è Google in Android 11 punterà moltissimo sul lato sicurezza vedete modalità nessuna distrazione quindi ad esempio se siamo alla guida oppure non vogliamo veramente essere distratti all'interno dello smartphone possiamo andare ad abilitare alcune applicazioni applicazioni che sono ovviamente settabili da questo menu di conseguenza tutte le applicazioni che andremo ad abilitare in questo menu contestuale vedete e possiamo anche programmare ad esempio un'ora non ci disturberanno assolutamente durante il timer che abbiamo impostato direttamente dallo smartphone un'altra funzione secondo me è molto molto utile all'interno del menu di accessibilità abbiamo una nuova integrazione per quanto riguarda le gesture ovviamente questo menu contestuale esisteva già ma sono state introdotte nuove gesture per quanto riguarda l'usabilità quotidiana che viene migliorata su Google Pixel 4 e Google Pixel 4 XL poi staremo a vedere quali saranno le gesture finali sulla nuova release software quando sarà ufficiale al 100% un'altra cosa che secondo me mancava all'interno del menu di condivisione di Android è questa funzionalità qua infatti vedete tappando ad esempio su un gruppo Telegram possiamo andarla a bloccare in questo caso oppure a sganciare praticamente ci permettono di tenere nella barra dei suggerimenti solamente quelli che secondo noi sono reali sono importanti perché molte volte quando andiamo a condividere un file beh non è mai precisa la condivisione alle volte non so se vi è mai capitato Google vi va a suggerire persone che non avete mai contattato a me è successo spesso così possiamo andare tranquillamente a bloccare i nostri suggerimenti preferiti per il momento a grandi linee sono queste le novità portate sulla nuova developer preview di Android 11 per quanto riguarda i Google Pixel vi lascerò magari in descrizione un articolo più completo con tutte le varie novità elencate per categoria come sempre ragazzi vi ricordo di lasciare un commento qua sotto al nostro video così se ci volete chiedere qualcosa saremo ben felici di rispondervi anche per questo video tutto lo staff di evosmart.it vi ringrazia vi saluta e ci vediamo nei prossimi video